Il nostro spettacolo ha animazione, parti teatrali, musica, perché l'idea è quella di fare uno spettacolo completo. Soprattutto noi vogliamo regalare due ore, un'ora e mese, due ore di assoluta spensieratezza alla gente e in quella spensieratezza vogliamo portarli a riflettere con leggerezza di quelli che sono i problemi della vita. È quello che si fa in ogni spettacolo, gli spettacoli io amo l'avanspettacolo, amo il varietà, in realtà poi il nostro spettacolo è come se fosse un varietà di musica popolare. Se si riesce a creare un ponte, un canale energetico col pubblico riesci anche a farli divertire divertendoti. È un canale energetico che non si può spiegare, non c'è una formula matematica, non c'è una scienza esatta che può spiegare questa cosa qua, ma è una cosa che succede. Proviamoci tutti quanti in questo modo bravi, ecco, leggeri, 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 ecco così, guardate che bello. Adesso siamo di più quelli che si muovono e domani, domani, noi potremmo dire a quelli che stavano fermato. Ah mi stacco, come ho un costo, così, vedi come cambia. Fortunatamente succede sistematicamente ai nostri concerti, molto probabilmente noi abbiamo capito il segreto, ma non lo vogliamo dire così in maniera aperta.